Musica con Marina Ciao bambini, ciao bambine, ciao a tutti quanti e bentornati a Musica con Marina. Per la canzone di oggi abbiamo bisogno di un velo. Come sempre, se non ce lo avete proprio uguale uguale, potete prendere una sciarpa oppure una qualsiasi stoffa. L'importante è che la forma sia quadrata. L'avete fatto il quadrato a scuola? Chi lo sa? Beh, in ogni caso questa qui è proprio la forma del quadrato. E perché è importante? Magari vi starete chiedendo. Perché è una canzone dove andremo a contare gli angoli del quadrato. Proviamo a vedere insieme, l'angolo praticamente è questa parte qui, che sta alla fine. Quindi ne abbiamo uno, contiamo insieme, due. Poi andiamo di qua, tre. E poi ne abbiamo un altro qui, quattro. Avete visto? Riproviamo ancora. Uno, due, tre e quattro. Bravissimi! E questo è importante appunto proprio per la canzone. Come sempre, mentre canto, fate quello che faccio io e cantate insieme a me. Pronti? La mia sciarpa ha quattro angoli, quattro angoli ha la mia sciarpa. Se non avesse quattro angoli non sarebbe la mia sciarpa. Contiamo insieme. Uno, due, tre e quattro. Bravissimi! Adesso la sciarpa si trasforma in una coperta. La mia coperta ha quattro angoli, quattro angoli ha la mia coperta. Se non avesse quattro angoli non sarebbe la mia coperta. Contiamo insieme. Uno, due, tre e quattro. E adesso in che cosa ti trasformi? In un... Eh sì, avete indovinato! In un bel e comodo cuscino. Il mio cuscino ha quattro angoli, quattro angoli al mio cuscino. Se non avesse quattro angoli non sarebbe il mio cuscino. Contiamo insieme. Uno, due, tre e quattro. E infine, sapete cosa faremo? Ci trasformeremo in... Supereroi! Tutti pronti con il mantello! Il mio mantello ha quattro angoli, quattro angoli al mio mantello. Se non avesse quattro angoli non sarebbe il mio mantello. Contiamo. Uno, due, tre e quattro. Bravi! Vi meritate un bell'applauso. Bravissimi! Allora, io mi sono divertita con questi quattro oggetti, diciamo, quadrati. Ora, voi potete anche divertirvi a trovarne degli altri e continuare a cantare la canzone e a contare i quattro angoli. Io spero che la canzone vi sia piaciuta. Fatemelo sapere mettendo un bel like sotto a questo video. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo per la prossima canzone. Ciao! 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 Grazie.